questo video perché dopo aver visto il tutorial di Detto Fatto di Rai 2 su come fare la spesa cercando di essere intriganti mi sono chiesta ma che cacchio state facendo cioè veramente ora vi dico come faccio la spesa io io che sono alta 105 centimetri letteralmente mi arrampico sulla carrozzina soprattutto quando non arrivo agli scaffali alti il ginocchio non lo piego perché comunque uno dei due ginocchi non si piega e però questo è il mio modo di fare la spesa alla fine cioè io non capisco perché questo tutorial sembra quasi che anni anni di lotte per l'emancipazione femminile siano veramente stati buttati nel fumo proprio puff così ciao anni di anni di lotte femminili ciao io poi quando vado a fare la spesa a parte mi carico di di troiai cerco di non esagerare compro anche tante cose per cucinare perché ora ho imparato a cucinare però quando non arrivo agli scaffali alti invece di fare come la signorina io chiappo la prima vittima specie se alta e gli dico scusi signora non è che mi potrebbe prendere quel quel prodotto lassù è perché non ci arrivo non è che mi vergogno a dire che sono alta un metro e un barattolo che poi sono anche alta un metro in barattolo però non è che se uno è alto un metro in barattolo non può essere intrigante come dice la cara emily come si chiama emily qualcosa di del simpatico tra parentesi tutorial cioè io veramente questo scivolone da parte di della rai non me lo aspettavo mi è venuto da ridere perché sembra un po una parodia però purtroppo è stato fatto veramente ma poi la cosa che mi ha sconvolto è stata la seconda parte di questo video che spiega quando cade un oggetto come abbassarsi senza sembrare volgari dai ragazzi ma non l'avete vista una che fa la spesa col tacco 12 e con la minigonna di pelle ma manco su marte andiamo va beh ragazzi io vi volevo dare la mia opinione voi che cosa ne pensate fatemi sapere iscrivetevi al canale e vi mando un grande abbraccio e buona spesa a tutti ciao